ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sullele king tv qui c'è un pacco ragazzuoli un pacco io penso aver capito cosa contiene anche perché si sente comunque qui l'indirizzo di chi l'ha spedito è questo qua ic labs srl strada dei confini 50 58 uno dice che roba è che roba è ma che roba e ragazzuoli che roba è è un pacco da la panini evidentemente il merchandising relativo al calcio regali quello con i punti che si trovavano nelle bustine viene gestito da una ditta esterna qualcosa del genere comunque ragazzuoli questo dovrebbe essere il premio dei punti che io ho raccolto ho fatto due ordini o qui punti ho fatto due ordini da 120 punti quindi andiamo a vedere cosa c'è qui anche se si capisce ragazzuoli dalla forma apriamo strappiamo tutto se strappiamo così e dai eccolo qua è il pallone della panini allora io l'anno scorso perché l'anno scorso non c'era raccolta punti ma c'era il concorso che tu inserivi il codice e potevi vincere io ho vinto questo pallone qua che come vedete era giallo questo è tutto bianco ragazzuoli infatti l'ho voluto ordinare perché è similare a questo qui come a livello di stemmi perché vedete questo sistema qui della panini che è un prodotto ufficiale la classica rovesciata e via dicendo però è di un altro colore anche la fantasia è diversa questo è tutto bianco con queste cose gialle questi contorni gialli e è il secondo pallone che ci abbiamo della panini quindi e l'altro ordine non è ancora arrivato non so perché poi staremo a vedere adesso non vi voglio anticipare che cos'altro ordinato con i punti che sono riuscito ad accumulare con con le figurine poi lo vedremo possibilmente quanto arriverà strano che questa è arrivata e quell'altro no perché praticamente ho fatto l'ordine insieme questo è arrivato già da tre quattro giorni ragazzuoli vi dico la verità non ho avuto tempo a rirlo subito e quell'altro non se ne vede traccia arriverà breve ok io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti